Maissun l'avevo già incontrata una volta a Castrovillari, adesso l'ho trovata dal punto di vista fisico assolutamente magra, deperita direi, però molto determinata a portare avanti le sue ragioni, quindi lucida, non si dà ancora pace di tutto quello che sta accadendo perché ha tenuto a dire che lei non è arrivata in Italia in cerca di fortuna, lei è un attivista che è arrivata in Italia per mettersi in sicurezza e pensava di avercela ormai fatta e invece è iniziato questo incubo e lei vuole uscire da questo incubo perché tutto quello che le viene attribuito è assolutamente falso, c'è un grande equivoco alla base di tutto questo ed è l'equivoco di traduzioni fatte da persone che non parlano la stessa lingua, da persone che poi sono state rintracciate questi accusatori sedicenti tali che hanno detto che non hanno mai accusato Maissun, dunque quelle dichiarazioni non corrispondono alla loro verità e sono disponibili a testimoniare, tant'è che anche le Iene, una trasmissione televisiva, è andata a parlare con loro e loro si sono resi disponibili a dire che quello che stava scritto in quell'atto non era quello che loro avevano detto. Allora io dico è possibile che tutti possono parlare con questi due e invece il tribunale non riesce a acquisire queste testimonianze. Io ho molta fiducia nella magistratura giudicante e spero che appunto venga fatta chiarezza in questa fase del procedimento perché effettivamente l'impianto che è stato portato tanto finora, l'impianto accusatorio, è completamente un impianto che non risponde alla realtà dei fatti. Avevamo già chiesto io stessa l'intervento di Nordio che venisse a riferire in aula, ci sono state altre interrogazioni. Continueremo a occuparci di questo caso perché questo caso veramente è qualcosa che non ci dà talmente tanta preoccupazione che useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione anche informare l'opinione pubblica perché si deve sapere. Io non vorrei che sull'onda di questa idea che bisogna trovare nel globo terraqueo tutti gli scafisti ecco questa modalità possa influenzare e arrivare anche laddove invece bisogna valutare sulla base della realtà. Lei ha detto che ha fiducia nella magistratura giudicante ma perché il fatto che sia arrivati a questo punto forse è dovuto anche a un clima politico? Io voglio sperare di no perché non dovrebbe mai accadere così. È chiaro che c'è una grossa pressione sulla magistratura. Vediamo che il governo attacca costantemente la magistratura. Questo toglie serenità nella valutazione, non c'è dubbio. Ma io ho ragione di credere che la magistratura non si farà influenzare, però è anche evidente che mai l'esecutivo dovrebbe entrare a gamba tesa come sta facendo contro la magistratura, proprio nell'ottica della separazione dei poteri, sulla quale separazione si basa lo stato di diritto. Quello che sta accadendo è molto grave. Noi parliamo del movimento Donna Vita Libertà, delle donne che scendono in piazza in Iran e rischiano la vita. Poi quando queste donne riescono a mettersi in salvo noi le sbattiamo in galera. Ma vi rendete conto che è cortocircuito, insopportabile? Dunque per questo bisogna andare fino in fondo e io mi auguro che la magistratura lo faccia con senso di responsabilità perché altrimenti questa giovane donna rischia anni e anni di galera quando pensava di essersi messa in salvo. Un paradosso insopportabile.